La mia storia comincia tanto tempo fa, quando avevo 5 anni, quando mi hanno detto che fare l'ingegnere non era un lavoro adatto ad una donna. Se si ama questo lavoro, il sacrificio, basta il secondo piano e quindi ho avuto appunto la possibilità, grazie a WeBuild, anche di crescere perché ho iniziato a Copenhagen come ingegnere di cantiere, poi sono stata promossa come direttore di cantiere e qui appunto direttore di settore, quindi construction manager. Sulla linea 16 lotto 2, abbiamo il record del Gran Paris Express, avendo appunto 55 donne e anche donne che appunto ricoprono dei ruoli di responsabilità appunto come direttore di settore, direttore planning, del monitoring, abbiamo responsabili dei costi che sono delle donne, responsabili per la qualità, per l'ambiente, quindi sicuramente è una linea abbastanza femminile, se vogliamo dire così. Io la prendo come una nota più che positiva, diamo un segno forte da questo punto di vista. Il fatto che ci siano tante donne, come dicevo prima, è sicuramente un segnale positivo, ma è sicuramente un segnale positivo anche per il management di questo progetto, che non guarda a mio avviso appunto al genere, ma guarda piuttosto alle competenze, che è quello che dovrebbe essere fatto sempre in tutti i settori. La linea 16, come altre linee, sono delle linee della nuova metro di Parigi, in un progetto appunto di miglioramento della viabilità di quello che loro chiamano l'Ile des France, che è la Valleu, quindi la periferia di Parigi, che ovviamente abbraccia tanti comuni e anche delle zone non solo poco servite, ma anche un po' abbandonate, per cui è anche un modo di rivalorizzare queste aree e di dare appunto la possibilità di avere un collegamento più veloce e assolutamente moderno con Parigi. Partecipare al progetto del Gran Parigi è sicuramente una sfida da un lato, ma una grande emozione, un grande orgoglio dall'altro. Come un po' tutti i progetti, a mio avviso, WeBuild, che sono comunque dei progetti ecosostenibili, che hanno comunque una finalità, ma sono anche realizzati da del personale che ha delle competenze altissime. Abbiamo degli standard di sicurezza molto, molto elevati e allo stesso tempo anche standard ambientali e di qualità, che ritengo tra i più alti al mondo. La mia idea di fare l'ingegnere è vedere realizzato ciò che si progetta. Io ho iniziato in Italia prima appunto di decidere di andare all'estero, anche un percorso di progettazione, però il mio sogno era quello di essere in cantiere, quello di vedere appunto realizzate le opere. Dopo Parigi non ho ancora un'idea ben precisa, sono sempre aperta alle nuove sfide. Una parte del mio cuore vorrebbe tanto provare forse a fare il mio lavoro in Italia. Avevo quasi dieci anni di estero, mi piacerebbe tanto portare quel po' che ho imparato nel mio percorso nel mio paese. L'Italia per me resta a casa e le competenze che noi abbiamo le portiamo nel mondo ed è una sfida, ma sarebbe bello anche farle vedere a casa nostra.